sicuramente io vedo ancora l'extra 230 eh Luca non è l'extra quello che vedo la no eh speravo ancora in un modello togliete le macchine che voglio vedere i modelli a terra però la turbina c'è ancora senza re no? sta andando via? no no è una macchina avete ripiato a portare le tre no avevate paura di oddio le cinque siamo qua anche che parte l'ottima sta per il vento ah è il vento no no per l'ora infatti c'è stato momento alle quattro che aveva ragione con le reti qua due a terra e viene il bel gioco eh? non va a fare non va a fare nulla non va a fare bravo bellissimo il biplano che arriva che lentamente bravo è a terra inerrappata e ci siamo bellissimo bellissimo è bella cosa bella Grazie a tutti.